Signora, è sua questa macchina. E allora la Larry, mi sto bloccando la mezz'ora. Perché era qui? Va bene, vado via subito. Coraggio, le sposto io quest'altro. Grazie. Venga, venga signora, venga. Venga a me, venga dritto, l'ho detto, coraggio. Forza, a me, così, così. Venga, venga, pure, tutto bene. Versi, versi, venga ancora, si riprenda. Basta così, vada pure. Gianni! Gianni Perico! So Antonio, non mi riconosci? Antonio! Gianni! Gianni! Ma quanti anni sono passati? Da quando c'è me l'ammo, sotto la pioggia, ti ricordi? E come lui? Dice il mondo è piccolo, ma è piccolo, Gianni. 25 anni per i trovasse. Certo che è piccolo il mondo. No, cioè, grande. Ma come te la passi? Come, come me la passi? Gianni, che stai a fare qui? Dimmi te no, pure se sì. Fai il guardia macchina. Fai il guardia macchina. No, ma che chiavica di società. E come hai fatto? Beh, sai... No, io da ora che t'ho capito a te. Lo sai che sei te? Un idealista. No, guarda. Perché sei troppo netto. No, guarda, lascia stare. Ma ti voglio postare che un avvocato fa il guardia macchina? Porcaccia di quella zozza porca! No, niente, è così. Ho avuto dei guai, sai, dei momenti difficili possono capitare a tutti. E poi una cosa provvisoria. E spero presto di cambiare, di trovare... Ah, meno male. Ho già una mezza promessa, almeno spero. Però ti prego, non ne parliamo, eh? No, scusate, scusate.